Sisterà una piccola spinta e penso che riuscirei ad arrivare fin sopra. Volete che vi aiuti a fuggire scavalcando quel muro? È quello che ho detto, esatto. La gente non noterebbe la vostra assenza? Me ne preoccuperò più tardi. Ora, vi dispiace? Solo una piccola spinta. Venite, su. Non ho alcuna intenzione di offrirvi il mio aiuto. Sono una donna in difficoltà. Negate aiuto a una donna in difficoltà? Solo nel caso in cui la donna è in difficoltà stia cercando di scavalcare un muro pur di non sposare me. Buongiorno, Carlotta. Io sono Giorgio. Sono profondamente... vostra maestà. Non vostra maestà. Giorgio.